Si terrà stasera in Piazza Immacolata San Gregorio di Catania, musica contro la mafia, giunta alla settima edizione e che per la prima volta approda nel comune Etneo. L'evento è organizzato dall'Associazione Donne in Azione, presieduta da Fabiola Cabibbo, con il patrocinio del comune di San Gregorio di Catania. Ospiri d'eccezione stasera il magistrato Marisa Scavo, Fabrizio Famà e il cantante Ruli Rodriguez. Come ogni anno l'argomento centrale della serata sarà la lotta alla mafia e il ricordo di coloro che sono caduti cercando di sconfiggerla. Elemento portante dell'evento è però la musica che come ogni anno accompagnerà i momenti istituzionali. Il comune di San Gregorio è ben lieto questa sera di ospitare una manifestazione carica di valore sociale. In realtà commemoriamo l'uccisione di Paolo Borsellino del 19 luglio. Siamo riusciti a farla una settimana dopo ma ci siamo comunque riusciti. L'associazione che sta dietro tutta la manifestazione è appunto un'associazione costituita da donne e si chiama Donne in Azione. Ha coinvolto dei giovani di San Gregorio ma anche non di San Gregorio artisti che oggi suonano contro la mafia. Quindi molti di loro compongono appositamente dei testi a tema. L'obiettivo è sempre sensibilizzare e ricordare sempre, cioè noi non dimentichiamo quello che è successo.